Questa settimana su ANN i leader avventisti in Sud America esprimono cordoglio per il tragico incidente dell'aereo in cui hanno perso la vita i giocatori di una squadra di calcio brasiliana. Il presidente Edi Manuatu assiste al servizio di culto in una chiesa avventista nella capitale. E nella giornata mondiale contro l'AIDS parliamo dell'impegno della chiesa nel porre fine alla diffusione del virus HIV e l'AIDS nell'Africa subsahariana. Questo è altro ancora, a fra poco. Benvenuti su ANN, un servizio della chiesa cristiana avventista mondiale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per aver scelto di seguirci anche questa settimana. Il Brasile e il mondo dello sport sono in lutto dopo lo schianto dell'aereo su cui viaggiava un'intera squadra di calcio di Serie A. I dirigenti della chiesa avventista hanno espresso cordoglio alla famiglia dei giocatori e alla nazione. I 77 passeggeri del volo erano in maggioranza membri della squadra brasiliana, oltre a giornalisti diretti a Medellin per la finale della Coppa Sudamericana. 71 le persone che hanno perso la vita, 6 superstiti, di cui alcuni gravi. All'origine dell'incidente sembra esserci un guasto elettrico, ma gli investigatori lavorano per capire la causa esatta. Il presidente della chiesa avventista in Sud America ha detto a nome della denominazione «Come famiglia avventista preghiamo perché la pace e la speranza che solo Dio può dare possano confortare le famiglie colpite». A noi italiani questo incidente aereo ricorda la tragedia di Superga del 1949, in cui persero la vita i calciatori del grande Torino. La scorsa settimana la chiesa avventista della capitale di Vanuatu ha accolto un ospite speciale durante il servizio di culto del sabato. Il presidente della Repubblica di Vanuatu, accompagnato da una delegazione ufficiale, ha visitato la chiesa avventista a Port Villa. La visita fa parte dell'impegno continuo del Capo di Stato per conoscere la realtà che operano nella nazione. Durante il discorso il presidente ha elogiato l'educazione avventista ricordando che le scuole di Vanuatu hanno formato molti dirigenti di qualità che servono il Paese in diversi settori e ambiti. Ci sono più di 36 milioni di persone in tutto il mondo che vivono con l'HIV e l'AIDS. 1,8 milioni sono bambini, molti dei quali sono stati infettati dalla madre sieropositiva durante la gravidanza, il parto o l'allattamento. Nella giornata mondiale contro l'AIDS, celebrata il primo dicembre, ci sono state iniziative in molti Paesi del mondo per eliminare l'impegno della lotta nella pandemia di AIDS. Il direttore dei Ministeri della Salute della Chiesa Avventista Mondiale ha spiegato che la Chiesa realizza diverse attività e progetti di lotta all'AIDS, soprattutto nell'Africa subsahariana, per sensibilizzare e diffondere consapevolezza sulla prevenzione. Ora una breve pausa, ci rivediamo tra poco. Back to Jesus, ritorno all'essenziale. Questo è il titolo del congresso spirituale Wicca 2017, dal 21 al 24 aprile. La riforma protestante non è solo un evento storico, ma un nuovo modo di concepire la Chiesa in funzione di un ritorno all'essenziale, della disponibilità a rivedere le proprie abitudini di fede e impegnarsi più concretamente nel mondo. Prossimamente, altre notizie. Strena Natalizia DV. In occasione delle festività, la DV ha ristampato due libri, La Speranza dell'Uomo, in una straordinaria versione tascabile, ed Incontri Indimenticabili, nuova edizione arricchita da tante immagini a colori, prezzi scontati, chiedi alla società missionaria. Un Natale solidale fa bene alla salute. Adra Italia e la Fondazione Vita e Salute, stanno collaborando insieme in un nuovo progetto che va oltre la semplice distribuzione alimentare. Donando ai vostri cari uno o più prodotti, aiuterete chi è stato colpito dal terremoto, poiché i prodotti inseriti nei pacchi provengono da agricoltori delle zone terremotate. Chiedi al responsabile della società missionaria della tua Chiesa. Scuola del Sabato, primo semestre 2017. È disponibile l'edizione digitale della Guida allo studio personale della Bibbia e la condivisione in gruppi. Il lezionario è disponibile per iPhone, iPad e tablet con sistema Android. Accedi allo store del tuo device mobile. Bentornati. Riprendiamo il nostro giornale con alcune notizie della Chiesa italiana. Il rapporto tra flora batterica e i suoi possibili effetti sul diabete è stato pubblicato in un articolo scientifico nazionale che presenta le abitudini alimentari degli avventisti. Lo studio è stato pubblicato il 14 novembre sull'importante rivista scientifica Nature Communication. La rivista britannica è considerata uno dei pochi periodici accademici che pubblica ricerche originali in diversi campi scientifici e ha un'utenza online di 3 milioni di lettori mensili. La rivista ha individuato una relazione tra il sistema immunitario e la flora batterica intestinale e il metabolismo del glucosio. Si è scoperto che vi è una differenza nella quantità di uno specifico battere nell'intestino in persone diabetiche rispetto a quelle con prediabete e a coloro che hanno un normale metabolismo del glucosio. Lo studio ha valutato 94 avventisti brasiliani di età compresa tra i 35 e i 65 anni. Quello pubblicato è il primo di una serie di articoli sulla dieta alimentare degli avventisti di San Paolo. L'università avventista Oakwood, nello stato americano dell'Alabama, ha celebrato 120 anni. Tra i tanti eventi in programma è stato inaugurato un centro di lingue e risorse bibliche. Il centro promuove l'apprendimento e l'uso delle lingue bibliche e offre risorse digitali agli studenti. In 120 anni l'università ha dato l'impulso alla missione educativa avventista e formato professionisti cristiani competenti. La prima classe della scuola quando fu aperta era il 1896. Era composta da 16 studenti. Oggi l'università conta circa 1700 iscritti. In Monzambico la grave siccità ha portato carestia e insicurezza alimentare a 1,4 milioni di persone. Per questo l'agenzia ADRA del paese sudafricano ha realizzato un programma alimentare di cui hanno già beneficiato 10.000 abitanti. Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con A&M. Nel frattempo seguiteci anche su Facebook e Twitter con notizie, foto e video sempre aggiornati. Prima di lasciarci vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel libro di Giovanni capitolo 8 versetto 12. Il testo dice Gesù parlo loro di nuovo dicendo io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ora è proprio tutto e ricordate che ci troviamo su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci.